Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6 iniziamo la nostra rassegna stampa subito andando sul touch screen per vedere insieme i nostri giornali partiamo dalle prime pagine regionali e dunque dalla prima del centro nell'edizione di Pescara eccola qui il titolo di apertura acqua vietata a scuola e in 20 case a Pescara ordinanza del sindaco dopo i controlli in piazza grue l'acqua è troppo torbida questa è la motivazione al momento almeno per cui è stata emanata l'ordinanza del sindaco ricorderete nei giorni scorsi la problematica legata ad alcune fontanelle sempre di Pescara tra l'altro una proprio in piazza grue che sono state chiuse e dunque non è possibile captare acqua da quelle fontanelle proprio perché c'erano dei problemi nell'acqua che veniva erogata continuiamo con la lettura del quotidiano il centro andiamo a vedere nelle cronache prima di vedere i richiami dal nazionale strade insicure le strisce sono invisibili troppi rischi per i pedoni leggiamo di spalla e poi nell'area vestina ladri in fuga dopo sei furti nelle abitazioni e per il calcio culibali e canute ecco i jolly di Zeman andiamo a vedere anche in Abruzzo turismo brand Abruzzo sugli aerei ticket da 12 milioni la norma contestata vongolare il vietato pescare sotto costa e poi l'altra bussi piano d'orta accuse contro la provincia andiamo dunque adesso a vedere i richiami dal nazionale a centropagina nella fotonotizia la strage di Las Vegas usa armi in libertà strage a Las Vegas 58 i morti e 500 i feriti e poi dopo il referendum in Catalogna la Catalogna si appella la mediazione internazionale con Madrid per cercare di trovare una soluzione una via di uscita a questa problematica della sorta appunto dopo il referendum indipendentista nel taglio basso il buongiorno Abruzzo è firmato da Giuliano Di Tanna disarmati contro la violenza casuale è una riflessione proprio a partire da quanto accaduto negli Stati Uniti andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro andiamo a vedere adesso la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto il titolo di apertura rifiuti a fuoco e scuola devastata andiamo a vedere perché vandali scatenati a Chieti bruciano immondizio e portone a Lanciano ride all'Umberto I di spalla nelle cronache partiamo da Chieti tunnel al terminal bus ripartono i lavori che sono stati bloccati per anni e poi a Lanciano bando della Sasi per 67 posti è polemica Casa Canditella per quanto riguarda l'inchiesta Masterlist d'Angelo ho preso soldi per beneficenza così il sindaco agli arresti si è difeso nell'interrogatorio di ieri continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro andiamo a vedere anche la prima pagina dell'edizione Teramana spacciatori allontanati dal centro il titolo con cui viene aperto il giornale blitz della polizia a Teramo in Piazzetta del Sole spazio interdetto a 5 pregiudicati ancora nelle cronache di spalla Giulianova drastico calo delle multe meno 25% in un anno e poi andiamo a leggere ancora da Silvi ricatto a luci rosse condanna a 6 anni e poi l'inchiesta scuole sisma nuove carte nelle mani dei pubblici ministeri poi andiamo a vedere la prima di L'Aquila Avezzano sul Mona chiudendo così la panoramica sul quotidiano il centro tasche cucite sport senza aiuti l'Aquila viaggio nella crisi di calcio e rugby Nero Verdi si riapre la trattativa per non fallire nelle cronache ad Avezzano faccendiere e mazzette indaga anche il Vaticano su Antonio Ruggeri 68 anni finito sotto accusa nell'inchiesta Masterlist proseguiamo con le cronache truffa in Icanistro estranea all'inchiesta e poi ad Avezzano un 62enne trovato morto nei campi lasciamo il quotidiano il centro adesso ci spostiamo invece sul messaggero andando a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo il titolo di apertura ancora cronaca giudiziaria chiesto il processo per la fira la procura giudizio l'ex presidente Rocco Micucci Antonio Sorgi e altri due indagati lo sfogo dell'attuale sindaco di Rapino pensavo di aver chiarito ogni dubbio con i giudici andiamo a vedere un estratto dell'articolo di Saverio Chiuto a pagina 38 l'ex presidente della fira batte tutti sul tempo con un post tanto scrive sul suo profilo facebook lo leggerete tra poco online o al massimo domani così è proprio lui l'attuale sindaco di Rapino Rocco Micucci a dare notizia della richiesta di rinvio a giudizio firmata nei suoi confronti dalla procura dell'Aquila per associazione a delinquere reato che continua a fare notizia in Abruzzo dopo l'assoluzione di qualche giorno fa dell'ex governatore del Turco per lo stesso capo di imputazione Micucci era finito sotto inchiesta assieme all'ex alto dirigente della regione si tratta di Antonio Solgi l'imprenditore Ercole Cauti e un'altra dirigente della regione di Sflacco nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla mobile di Pescara per presunti reati commessi nella gestione dei programmi europei tra il 2009 e il 2013 proseguiamo con la cronaca giudiziaria e un'altra inchiesta sempre che arriva sempre dalla provincia dell'Aquila appalte tangenti venturini le gare non sono truccate l'interrogatorio dell'ex amministratore del CAM ad Avezzano dice io sono inocelente e poi in questo richiamo via l'accampamento davanti al comune siamo a Pescara dopo quattro mesi trascorsi in un'aiola di Piazza Italia ieri i coniugi Cucinotta Marsili sono stati sgomberati a centropagina sempre da Pescara negozi chiusi e strade vuote siamo a Porta Nuova il crepuscolo di Porta Nuova scrive il messaggero per quanto riguarda appunto l'economia pescarese un tempo cuore pulsante del capoluogo è precipitata nell'abbandono negozi chiusi e strade deserte questa l'inchiesta di spalla la Camera di Commercio di Pescara ieri la presentazione del piano export un sostegno a piccole e medie imprese start-up incubatori e centri di sviluppo l'impegno dell'ente camerale che appunto è stato esposto ieri in una conferenza stampa nel taglio basso il turismo la promozione spicca il volo la regione promuove il turismo sugli aerei affidate tre gare per 9 milioni e 500 mila euro da spalmare su 5 annualità riguardanti le compagnie aerei Ryan e Mistral la promozione avverrà con il posizionamento di banner pubblicitari sui siti internet la distribuzione di materiale promo pubblicitario a bordo degli aerei la pubblicazione di materiale promo pubblicitario su riviste locali l'inserimento del logo promozionale della regione Abruzzo sui telini poggiatesta degli aerei andiamo a vedere anche nel taglio alto che cosa propone il messaggero la serie B Bovo in difesa il Pescara si scopre imbattibile dilettanti mille tifosi al seguito del lanciano in promozione poi il caso Rugby l'Aquila ora spera di poter tornare in campo per quanto riguarda la serie A di Rugby dopo la rinuncia di domenica a giocare contro il Prato Sesto la dirigenza avrebbe trovato le risorse per poter abbattere i debiti lasciamo il messaggero adesso andiamo a vedere la prima pagina della città il titolo di apertura riguarda il Gran Sasso Gran Sasso emergenza nazionale regione Ruzzo Toto e INFN oggi del governo per chiedere i soldi della messa in sicurezza dell'acqua e poi troviamo l'editoriale del direttore della città Alessandro Misson che riguarda il sisma le casette promesse e il titolo andiamo a vedere il perché di questo titolo ottobre è arrivato scrive Misson ma poco più di un anno e un mese dalla prima scossa di terremoto delle 3699 casette ordinate dai comuni terremotati ne sono state consegnate appena 966 a centro pagina il caso la burocrazia fuori graduatorio un bimbo disabile quindi sulla fotonotizia il titolo è l'asilo negato sempre restando ai temi della scuola ancora scuola bus bimbi ancora a piedi Giulianova altri disservizi nonostante le promesse ci spostiamo ora nel taglio alto andiamo a Teramo lite tra tossici e pus c'era la pensilina dei bus per quanto riguarda questa inchiesta sul degrado in centro storico e poi la polizia allontana il giro di spaccio dalla piazzetta del sole di spalla troviamo il caso paziente fugge due volte dall'ospedale e nessuno se ne accorge poi l'inchiesta di Alba la gente teneva chi di droga ai pusher albanesi nel taglio basso Roseto degli Abruzzi Malamovida l'appello al questore poi la cucina teramana a chioccioline da schillaci polemiche inutili contro la condotta di Slow Food questo per quanto riguarda la prima pagina della città che chiude così la panoramica sulle prime pagine regionali adesso invece andiamo a vedere insieme le prime pagine nazionali partiamo dal Corriere della Sera ovviamente grande spazio a quanto accaduto negli Stati Uniti a Las Vegas spari dall'alto strage al concerto il titolo i colpi durante l'esibizione country l'assassino si è suicidato Trump il presidente statunitense dice non è il momento di parlare di armi Cecchino in un hotel almeno 59 morti e oltre 500 i feriti lì si rivendica ma per CIA ed FBI non è terrorismo chiaramente c'è la riflessione di spalla sul Corriere affidata a Massimo Gaggi la potenza fragile e il titolo un pastore di anime più che un capo di governo davanti al massacro più terrificante e vasto Donald Trump ha pregato invocato Dio ha chiesto benedizioni per le vittime e le loro famiglie e l'America misure per evitare che le stragi si ripetano e divengano sempre più cruente e su questo nulla la critica mossa dal Corriere ma un po' sappiamo che la posizione europea sulla vendita di armi non è certamente quella che c'è nel mondo statunitense poi ovviamente troviamo il caso Catalogna oggi lo sciopero l'Unione Europea si schiera con Madrid il referendum è stato giudicato illegale da Bruxelles la Repubblica ora chiaramente anche qui è grande spazio al strage a Las Vegas il grande massacro americano Las Vegas killer di 64 anni con 19 fucili spara dal 32esimo piano sulla folla di un concerto 58 i morti oltre 500 i feriti vedete proprio le scene di panica il paese sotto shock l'FBI non è un terrorista islamista polemica sulle pistole facili Trump prematuro il dibattito sulla legge andiamo a vedere anche qui la sfida catalana eccola qui un'alleanza farà cadere Rajoy trattative con PSOE e Podemos sono giorni concitati in Spagna dopo il referendum andiamo sulla stampa anche qui il titolo di apertura è dedicato a Las Vegas massacro al concerto Steven Paddock pensionato di 64 anni ha usato 19 fucili per la più grande strage a mano armata negli Stati Uniti Trump dice è un atto diabolico il killer ha sparato sulla folla dal grattacielo il bilancio è pesante 58 morti oltre 500 i feriti l'Isis ha rivendicato l'FBI però non crede alla rivendicazione anche qui la riflessione su quanto accaduto è affidata a Gianni Riotta l'orrore del cecchino sanguinario e anche in questo articolo si critica la vendita facile delle armi negli Stati Uniti andiamo a vedere anche qui la sfida catalana trattiamo con l'Europa intervista Mas padre dell'indipendentismo sciopero a Barcellona Madrid dice useremo la forza della legge un tema questo che sta come vedremo tra poco con il sole 24 ore portando anche delle ricadute a livello economico e non solo politico è chiaramente un tema che rischia di trascinarsi a catena anche altre situazioni sparse in Europa andiamo proprio sul sole 24 ore come vi ho annunciato c'è diciamo il riflesso economico del referendum Catalogna indipendente cala l'euro spread in rialzo l'Unione europea il referendum è illegale ora serve il dialogo i leader separatisti preparano la dichiarazione di indipendenza oggi lo sciopero generale nella regione con anche la richiesta di ritirare i 10.000 poliziotti inviati da Madrid proprio in Catalogna andiamo a vedere le altre notizie torniamo in casa nostra quando si fanno le riforme i risultati arrivano la lettera del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia investimenti occupazione e domanda si è avviato un circolo virtuoso con i dati diciamo macroeconomici che sono sostanzialmente positivi andiamo avanti vedere sempre sul sole processo penale meno appelli per tagliare pratiche e tempi il consiglio dei ministri con i primi decreti di attuazione più limiti per imputati e PM andiamo sul fatto quotidiano apertura diversa rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza vogliamo sceglierli noi l'appello da oggi sul sito del fatto si firma per una legge elettorale senza liste bloccate dunque senza nominati andiamo a centro pagina la cronaca giudiziaria Woodcock e Sciarelli innocenti da loro nessuna fuga di notizie per la procura di Roma che ha chiesto l'archiviazione per il PM di Consip la giornalista della RAI andiamo ancora avanti sul manifesto il quotidiano comunista l'apertura è dedicata alla Catalogna l'infranta di Spagna giocando con le parole come sempre accade sul manifesto con l'infanta di Spagna la Catalogna prende tempo sulla dichiarazione di dipendenza della Spagna al referendum il sì al 90% ma alle urna votato solo il 42% l'Unione Europea si schiera con Madrid sulle violenze della polizia nei seggi l'ONU chiede una indagine oggi sciopero di protesta senza i maggiori sindacati e poi nel taglio alto ritroviamo la strage di Las Vegas pari sulla folla 58 morti l'attentatore ha scaricato 10 fucile e 8 pistole sul pubblico di un concerto poi si è suicidato Stati Uniti il gun control il terrorismo delle armi molti come vi ho detto in precedenza in Europa diciamo sottolineano la potenza della lobby delle armi negli Stati Uniti che non consente un dibattito sulla bontà o meno di mettere al bando le armi proseguiamo con il messaggero la strage più feroce scuote gli Stati Uniti il titolo del messaggero Las Vegas spari a raffica dalla stanza di un hotel sulla folla di un concerto 58 morti e 500 feriti peggiora l'attacco dall'11 settembre suicida l'attentatore bianco di 64 anni l'ISIS rivendica l'FBI smentisce non è terrorismo l'ultimo blef del califato in difficoltà e poi andiamo a vedere insieme anche il titolo sulla Spagna Catalogna il sì solo dal 38% l'Unione Europea si schiera con Madrid indipendentisti in minoranza sciopero generale contro le violenze e la riflessione che troviamo è di Alessandro Campi dalla Spagna e l'Italia le forzature delle minoranze con l'alibi dell'identità andiamo sul quotidiano il tempo restando sempre ai giornali romani nel titolo di apertura troviamo la legge elettorale istruzioni per l'uso del Rosatellum così può vincere il centrodestra vi spieghiamo perché la nuova legge elettorale non è da buttar via anzi e nel taglio alto Anac e Antitrust sull'aggiunta Raggi l'appalto sospetto ecco le indagini sulla gestione dei servizi nella capitale la gara vale mezzo miliardo di euro esposto di 50 imprenditori e associazioni come sapete il tempo è sempre molto molto critico e molto attento su quanto sta avvenendo a Roma a capitale poi quest'uomo ha ucciso 58 persone il titolo sulla strage di Las Vegas l'Isis rivendica ma è giallo andiamo su Libero restando i quotidiani di centrodestra la morte viene dall'alto scrive Vittorio Feltri la strage di Las Vegas 58 vittime e 500 i feriti andiamo a leggere l'Isis rivendica l'attentato ma l'assassino è un americano di 64 anni all'apparenza tranquillo è salito all'ultimo piano di un grattacielo e con un arsenale ha sparato ad impazzate le catombe più grave negli Stati Uniti dopo le torri gemelle continuiamo con la verità andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura avvenire a ruola il presidente degli atei vediamo perché la deriva del giornale dei vescovi Sergio Staino firma pagato dalla CEI una striscia satirica su Gesù l'ex direttore dell'unità e capo di un'associazione che vuol proibire il battesimo e togliere il crocifisso da scuole ed ospedali questa la critica del giornale di Belpietro ad avvenire e poi Madrid pesta vecchie donne il mandante l'Europa questa è la lettura ancora l'Isis balla su 58 ammazzati di Las Vegas americano di 64 anni spara sugli spettatori di un concerto il califato specula e dice si era convertito ma in realtà almeno dalle prime indagini non sembra così il secolo d'Italia scusate la mano dell'Isis si chiede il giornale che fa riferimento a Fratelli d'Italia chiaramente il titolo riguarda la strage di Las Vegas in primo piano poi il centrodestra si allarga in arrivo la quarta casa con il movimento politico di Stefano Parisi la Catalonia cade nel caos vince il sì il muro di Madrid e poi i migranti a fondo della Chiang wifi free è il loro diritto andiamo su avvenire il titolo è azzardo catalano Barcellona pronta a proclamare l'indipendenza oggi lo sciopero generale l'Unione Europea però sta con Madrid dopo il referendum segnato da violenza e dalla netta vittoria del sì resta alta la tensione Racoi potrebbe sciogliere gli organi locali poi il killer solitario spara sul concerto Daesh rivendica cioè l'Isis ma ci sono forti dubbi l'orribile strage senza perché 58 morti 500 feriti a Las Vegas sul secolo d'Italia ritroviamo i due temi principali di oggi Catalonia e Las Vegas la Catalonia chiama l'Unione Europea dopo il referendum sull'indipendenza sciopero contro le violenze della polizia serve una mediazione Madrid non ci sta e dice useremo la forza della legge e poi nel taglio alto Apocalisse al concerto country per quanto riguarda la strage di Las Vegas sul mattino di Napoli l'apertura è dedicata a Las Vegas la strage del pensionato per 20 minuti spara da un grattacielo su un concerto poi si suicida 58 morti più di 500 feriti nella sua villetta ha trovato un arsenale l'Isis prova a rivendicare ma gli 007 smentiscono nessun legame con i terroristi e poi la polemica l'imbarazzo di Trump troppe armi si vedrà continuiamo a centropagina altro titolo invece che riguarda le cose di casa nostra l'abusivismo il PD blocca la legge il DDL che regola gli abbattimenti sana gli abusi di necessità rischia di saltare alla prossima legislatura andiamo a vedere adesso insieme i quotidiani sportivi nazionali iniziamo dalla gazzetta dello sport il titolo è dedicato alla squadra del momento l'ora di Napoli il 7 su 7 record degli azzurri nasce col gioco che si avvicina alla perfezione tiri passaggi e difesa in tutto c'è un progresso non è più tabù dire scudetto il trio meraviglia Mertens Cagliecon e Insigne nella fotografia il sarrismo al potere i Juve e Inter lo sfidano e poi i bianconeri devono sciogliere diversi nodi troppi blackout in difesa però c'è Di Bala e va al max poi i nerazzurri contano su una super retroguardia la banda spalletti è solida Brozovic in più ma non basta andiamo a vedere nel taglio alto le grane e le spine del Milan Bonucci in difficoltà Montella al rapporto vertice con il club analizzo il nuovo KO dopo la sconfitta con la Roma c'è un altro guaio Kalinic allarme per il derby guai anche in casa Torino Grana Belotti stop per un mese rischi ai playoff mondiali legamento leso ansia per il Granata avventura Italia fuori sarebbe una catastrofe poi nel taglio alto tra politica e sport caso Catalogna il Barcellona tra veleni e sciopero con la foto di Gerard Pichet nel taglio basso invece si parla di VAR TV e le linee del fuorigioco polemiche interpretazioni diverse ma l'occhio virtuale è attendibile dopo i casi di Torino e Benevento andiamo a vedere anche il Corriere dello sport anche qui l'apertura è dedicata al Napoli l'anno del Napoli non ha dubbi il Corriere azzurri leader città e tifosi euforici gli ex e gli ex del primo scudetto sono sicuri nel taglio alto vince il VAR corrette 18 sviste 5 decisioni errate dopo 7 giornate abbiamo studiato le decisioni prese al video è proprio iniziata una nuova era per il calcio di spalla l'incubo Belotti a rischio lo spareggio mondiale poi le novità la FIGC si è rifatta il look e il logo del futuro lo vedete nel taglio basso il futuro del Milan si chiama Conte confermata la fiducia a Montella ma fino al derby per la Serie B festa Frosinone ma lo stirpe apre senza gol finisce 0-0 ieri sera la partita contro la Cremonese per la Formula 1 Marchionnetuona la Ferrari ha buttato 2 GP andiamo a vedere anche Tutto Sport l'apertura qui è dedicata alla Juventus quei finali da incubo Juve ritrova l'umiltà questo è l'appello di Tutto Sport di spalla il Torino con i guai di Belotti ai Mihailovic Belotti out per un mese e poi la VAR gli arbitri ci danno ragione nel taglio basso l'Inter ciao Interello ecco dove sarà la nuova casa per il Vivaio e poi il Milan Jong-un Gli cerca Sochi Guaio Kalinic rischio derby a rischio e poi l'intervista Gallazzi sul Genova io non mollo ma preziosi questo per quanto riguarda anche i quotidiani sportivi che chiudono così la prima parte della nostra rassegna noi adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6 e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per approfondire i temi della nostra regione a tra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo come detto alle notizie della nostra regione e lo facciamo riaprendo le pagine dei quotidiani abruzzesi la pagina Abruzzo del messaggero in primo piano pone l'inchiesta sulla fira in particolare il rinvio a giudizio per Micucci sorge altre due indagati l'ex presidente lo scrive su Facebook ex presidente che è attuale sindaco di Rapino sono stato l'unico a farsi interrogare pensavo di aver convinto i magistrati della mia estraneità questo lo sfogo su Facebook intanto D'Alfonso affronta il futuro della finanziaria con i sindacati in arrivo nuovi carichi di lavoro e poi il tema della sanità superospedale Febbo dice no ai campanilismi non si placca la polemica a Tiatino Pescarese sul superospedale il cosiddetto DEA di secondo livello che secondo la programmazione regionale dovrebbe nascere integrando le funzioni dei due presidi già esistenti andiamo a vedere adesso la pagina di primo piano del quotidiano Il Centro che parla di promozione turistica per il marchio Abruzzo ticket da 12,5 milioni log e gadget sugli aerei Ryanair e Mistral la spesa spalmata in 5 anni coprirà soprattutto l'impegno delle compagnie sullo scalo di Pescara andiamo nel taglio basso il confronto tra le quattro province boom imprese della bellezza chieti in testa Pescara insegue continuiamo con la lettura della pagina di primo piano del centro mazzata sulla pesca cento vongolare in guerra per il divieto sotto costa off limits la fascia di mare più ricca di molluschi bivalvi lo ha deciso il ministro ma la regione vuole ottenere una deroga così annuncia l'assessore Pepe nel compartimento di Pescara le imbarcazioni sono 82 in quello di Ortona 22 la più colpita è l'area frentana scendiamo nel taglio basso poveri immigrati e violentate per loro 600 euro al mese questo è il progetto della regione e poi sindacato in lutto è morto marcheggiano della FIT CISL era il segretario a Bruzzo e Molise passiamo a vedere insieme la pagina Abruzzo sempre sul quotidiano il centro l'altra bussi ancora inquinamento piano d'orta accuse contro la provincia arsenico sotto le case omessa bonifica Marcozzi del Movimento 5 Stelle e De Santis del forum dell'acqua ribattono al presidente della provincia di Pescara di Marco e dicono si è mosso tardi invece di Marco ha detto che la provincia di Pescara ha agito in modo tempestivo è questa la frase che ha scatenato la polemica l'ambientalista ripesca anche una sentenza del TAR in cui i giudici criticano l'ente pescarese chiaramente per ambientalista si intende Augusto De Santis nel taglio basso appalti europei chiesto il processo la procura accusi dirigenti regionali Sorgi e Flacco il Terramano Cauti e Micucci continuiamo sempre sul quotidiano il centro andiamo ad aprire adesso la pagina di Pescara strade insicure le strisce sono sparite che rischio per i pedoni così apre la pagina di Pescara in due anni 120 persone sono state investite da auto o moto questo per quanto riguarda le strade insicure ecco chi ripulisce le vie dopo gli incidenti il comune dà locchia all'appalto da 184 mila euro per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle strade i consigli a comuni automobilisti laci zebbre visibili velocità adeguata e niente telefonini dunque niente distrazioni al volante poi pulizia dei tombini lavoro inutile rapposelli di Forza Italia critica il comune non servirà se l'ACA non pulisce le condotte andiamo a vedere adesso sulla città la pagina Abruzzo perché si parla in qualche maniera sempre di acqua l'acqua del Gran Sasso diventa un'emergenza nazionale questa mattina l'incontro a Palazzo Chigi tra struttura di missione regione Ruzzo laboratori e strada dei parchi le risorse per mettere in sicurezza l'acquifero servono risorse ingenti che possono arrivare dallo Stato l'incontro la delegazione guidata da Lolli incontrerà Erasmo De Angelis coordinatore della struttura di missione per le infrastrutture idriche di spalla l'ordine dei giornalisti pallotta il più votato tra i professionisti buona mano tra i pubblicisti queste operazioni di voto per il rinnovo del consiglio regionale nazionale dell'ordine dei giornalisti nel taglio basso invece troviamo la camera di commercio l'aquila vuol tenersi la sede della camera di commercio la CISL del capoluogo critica le indicazioni del decreto calenda torniamo sul messaggero andiamo a vedere l'apertura della pagina di Pescara sgomberata la tendopoli di Piazza Italia all'ora di pranzo il blitz delle forze dell'ordine contro la famiglia sfrattata accampata da quattro mesi per protesta davanti al comune l'intervento del sindaco era stato sollecitato dalla profettura scatta la linea dura per le manifestazioni tra i palazzi istituzionali in Piazza Italia infatti insiste sia la prefettura che la provincia di Pescara oltre al municipio al centro del braccio di ferro una casa popolare inagibile ad Alanno loro minacciano di non arrendersi andiamo nel taglio basso e vediamo quest'altra notizia Piazza Grue acqua vietata a scuola l'ordinanza colpisce anche tre condomini della zona eccessiva torbidità riscontrata dalle analisi H e Mistero sulle cause quindi non ci sono solo le sei fontanelle di Pescara già proibite ma anche una scuola in Piazza Grue andiamo sul centro a continuare la lettura delle pagine di Pescara perché ritroviamo anche qui la notizia appena letta allarme in Piazza Grue evitato bere l'acqua a scuola e in venti case l'ordinanza del sindaco dopo i controlli dell'ACA scoperta una eccessiva torbidità dopo la chiusura della fontanella pubblica nel taglio basso Festa Fidas Beach Golf vince la solidarietà alla finale in Piazza Salotto 1300 giocatori proseguiamo l'inchiesta misteri sui sacchi lasciati lungo il fiume scoperti 25 contenitori abbandonati pieni di rifiuti speciali poi rimossi di pillole del 5 stelle il comune faccia subito chiarezza e poi ritroviamo anche qui la notizia della famiglia di Alanno sgomberata blitz nel giardino di Piazza Italia i due coniugi dicono ora dormiremo sulla panchina andiamo ancora avanti altro tema caldo sempre a Pescara il nuovo esattore delle tasse il comune liquida la Soget 30 lavoratori sono a rischio in consiglio la delibera per affidare la gestione dei tributi alla società riscossione un emendamento punta a garantire l'occupazione i sindacati però sono in allarme e poi sempre per i temi legati al lavoro Porto persi 500 posti in due anni resiste soltanto di properzio per quanto riguarda gli operatori commerciali e gli effetti del mancato dragaggio la giornata dell'anziano ieri era la festa dei nonni auguri cari nonni patrimonio sociale e umano da tutelare festa al centro Nazareth candidata a diventare una RSA Paolucci dice la regione aumenta gli accreditamenti torniamo sul messaggero andiamo a vedere le altre notizie da Pescara negozi chiusi strade vuote il crepuscolo di Porta Nuova era la porzione di città mercantile ricca è diventata la sorella dimenticata di centrale fuga di ingrossi uffici e banche ma anche scelte sbagliate alla base di una crisi di identità secondo il messaggero nel taglio basso la vertenza SDA la mediazione del prefetto consegne bloccate nella filiale pescarese in 100 rischiano a causa dello sciopero in atto nei maggiori centri di smistamento andiamo a vedere la pagina successiva sempre dalle cronache di Pescara padre e figlio nella casa dello spaccio Davide e Fabrizio Berghella 53 e 22 anni arrestati con scorte di marihuana e hashish nascondevano oltre mezzo chilo di sostanze il giallo del passaporto sequestrato a un cliente debitore e poi la pappa è servita Montesilvano riparte il servizio mensa nelle materne pasti per 1500 bambini e poi ancora il giorno dell'orgoglio appenne per Donatella di Pietrantonio la scrittice vincitrice del premio Campiello ricevuta in comune dal paese un grande abbraccio collettivo nell'Arminuta parlo dell'abbandono esperienza comune a molti sarà un film ma purtroppo girato fuori regione dice Donatella di Pietrantonio e nel taglio basso andiamo a Francavilla Bruzzo include al via i tirocini anti povertà e poi soldi tv e grattevinci nella macchina dei ladri fra poco ci torneremo sulla notizia che riguarda Francavilla e il bando per l'inclusione torniamo sul centro addio bevilacqua il pilota amico di Fangio ed Eriberto aveva 84 anni l'ex agente di commercio oggi i funerali la cronaca droga dalla Colombia però ha sciolto un pescarese che si era stato arrestato per il giudice mancano le prove continuiamo con la pagina di Francavilla dell'area metropolitana finita l'estate di notte niente ambulanza nel 118 a Francavilla il servizio è stato come sempre sospeso Sarchese del Movimento 5 Stelle parla di un'anomalia perché paesi meno popolosi hanno l'ambulanza il vice sindaco Francesca Buttari ne abbiamo parlato alla ASL e andiamo e torniamo anzi sulla lotta alla povertà presentato il progetto da 450 mila euro a Francavilla per l'inclusione sociale andiamo a vedere insieme il servizio Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale va in questa direzione questa importante iniziativa Sessore Scudio Sì quest'anno abbiamo anche aumentato i fondi perché da 3 milioni e 2 siamo passati a 3 milioni e 6 consentendo quindi a 600 cittadini abruzzesi che sono esclusi completamente dalla vita sociale e soprattutto dalla vita lavorativa possano avere un'opportunità abbiamo anche aumentato quindi anche il numero dei mesi in cui potranno fare il tirocinio perché da 6 mesi potranno farne 12 aumentando quindi la possibilità di poter essere poi impiegati a tempo determinato o indeterminato abbiamo 80 tirocini extracurriculari in partenariato con il comune di Chieti e il comune di Guardia Grele Francavilla Capofila e abbiamo un partenariato ampio che è poi la forza di questo progetto ma proprio dell'iniziativa regionale un partenariato pubblico privato dove all'interno abbiamo agenzie per il lavoro enti di formazione enti datoriali e soprattutto organismi del terzo settore quindi cooperative di tipo B e associazioni questa è la forza di questo progetto al di là appunto dell'inclusione sociolavorativa che è importantissima Abruzzo include ci consente per la seconda volta di sperimentare dei partenariati pubblico privati che a mio avviso hanno proprio l'obiettivo di diventare di autosostenersi nel tempo quindi non più una mera logica di assistenzialismo ma modelli proprio di organizzazione e gestione che ci possano consentire nel tempo di creare proprio dei meccanismi virtuosi di sostegno all'inclusione abbiamo ci rivolgiamo a soggetti svantaggiati molte volte proprio caratterizzati da un doppio svantaggio quindi non solo povertà certificata ma tutti i soggetti i nuovi ingressi quindi gli immigrati tutte le persone che vengono da un'esperienza di dipendenza quindi ex tossicodipendenti ex alcolisti ma anche ex detenuti donne vittime di violenza senza tetto questo è il panorama a cui ci rivolgiamo e siamo convinti che come nella prima esperienza anche in questo caso avremo una percentuale di successo importante sul centro nella pagina di Montesilvano SOS qualità dell'aria subito le nuove analisi per controllare lo smog il comitato vestina pulita incalza il comune un anno fa le verifiche che hanno accertato alti livelli di inquinamento all'uscita della tangenziale nella zona del cimitero e poi la polemica sugli alloggi popolari musa assurdo assegnare casi di Montesilvano ai pescaresi la consigliera per aver dato un appartamento a una famiglia sgomberata in via lago di Borgiano qui le persone dice la musa aspettano da anni e poi gli orti urbani a giorni le prime assegnazioni procedono i lavori nei 35 appezzamenti individuati in via Don un lotto andrà a una sigla sindacale altra notizia che preleviamo dal centro da spoltore antenne un regolamento attento alla salute pubblica il consiglio comunale approva un documento che indica i siti idoni ed a cogliere impianti di telefonia e dispone un monitoraggio costante restiamo sempre sul quotidiano il centro andiamo ad aprire adesso la pagina di penne popoli dell'alta Val Pescara fuga nella notte dopo sei furti nelle case sei abitazioni dell'area vestina sono finite nel mirino dei ladri che sono state intercettate dai carabinieri inseguiti fino al cimitero di Cappelle e poi Nocciano cade l'amministrazione Mucci la vice Lorenza Valerio si dimette con i consiglieri di minoranza e fa sciogliere il consiglio comunale apriamo ora la pagina di Chieti ancora sul quotidiano il centro partiamo da Lanciano devastati uffici e aule della scuola media Umberto I per la quarta volta l'istituto preso di mira da ladri e vandali rubati i nuovi pc e il videoproiettore danni per oltre 10.000 euro andiamo a vedere insieme anche questo servizio da gennaio 2015 a ottobre 2017 sono quattro i furti messi a segno dai soliti ignoti alla Umberto I di Lanciano dei veri e propri ride che hanno avuto come obiettivo principale il furto dei computer questa volta dalla scuola media di Viale Cappuccini ne hanno asportati sette e hanno scelto i migliori commenta la dirigente scolastica Anna Maria Sirolli non solo computer però i ladri hanno asportato anche due videoproiettori un portatile e un tablet e non contenti hanno poi aperto anche la cassaforte utilizzando una mola l'ultima volta non c'erano riusciti e l'avevano abbandonata dentro però hanno trovato solo documenti e diplomi da consegnare sfiora 10.000 euro il valore del materiale informatico asportato adesso si contano i danni provocati alla struttura tra porte e infissi di velti che il comune ente proprietario farà riparare i ladri sono entrati nella scuola attraverso una finestra del pian terreno dopo aver forzato l'infisso e devono essere rimasti parecchio tempo all'interno del plesso scolastico perché hanno visitato tutti i piani dell'edificio riferisce la dirigente non possiamo stare tranquilli commenta sgomenta dopo l'ennesima mattinata trascorsa a fare la conta dei danni anche le macchinette erogatrici di snack sono state prese d'assalto e svuotate delle monetine l'amministrazione comunale di Lanciano cercherà i fondi in bilancio per dotare le scuole medie della città di impianti di sicurezza i teppisti a lavoro anche a Chieti lo leggiamo sempre dal centro i teppisti bruciano portone rifiuti notte di fuoco nel centro storico di Chieti blizza anche all'ospedale militare passiamo sul messaggero andiamo a vedere la pagina sempre di Chieti partono i lavori al tunnel il parcheggio raddoppia questa è la notizia che arriva dal capoluogo opera pronta entro la prossima estate l'ultimo intervento è di 424 mila euro arriveranno le telecamere attive H24 via Gran Sasso i posti salgono a 400 ieri la conferenza stampa del comune la presentazione con la ditta giudicatrice dell'appalto il sindaco e l'assessore di Felice così Chieti diventa più accessibile andiamo a vedere insieme il servizio prima una cattiva progettazione poi il fallimento e poi la necessità di reperire fondi ha fatto rischiare che quest'opera non potesse completarsi adesso abbiamo possibilità di farlo abbiamo fondi regionali e fondi comunali per realizzare quest'opera abbiamo 450 mila euro circa da investire per il completamento del tunnel che collegherà il parcheggio di via Gran Sasso alla parte alta della città a Largo Barbella ma voglio però significare come questo è soltanto uno degli elementi del sistema della sosta e della mobilità sia pedonale che veicolare che noi abbiamo disegnato e immaginato in questi anni perché insieme al tunnel che verrà completato vi è il progetto di rifacimento del terminal bus nel quale noi ci troviamo progetto finanziato con il master plan e affidato a TUA per l'attuazione vi è il fondamentale secondo me irrinunciabile progetto da portare avanti che è quello del raddoppio del parcheggio di via Gran Sasso per arrivare ai 400 posti auto progetto finanziato all'interno del decreto periferie che la mia amministrazione ha intercettato con il governo nazionale ma non dimentichiamo che vi è il rifacimento di piazza San Giustino che finalmente potrà essere consegnata alla città come un luogo non di parcheggio ma da vivere e vi è ovviamente anche l'altro elemento fondamentale per l'arroccamento al centro storico che è la scala mobile che verrà rigenerata deve essere rigenerata perché nel 2019 scadranno le certificazioni e quindi all'interno del decreto periferie c'è anche la possibilità di finanziare la rigenerazione della scala mobile ecco con tutta questa serie di interventi sulle infrastrutture io credo riusciremo per davvero a dare risposte non a un'opera incompiuta ma a dare risposte alla mobilità e alla sosta che ci viene richiesta sul centro storico 450 mila euro sono l'investimento complessivo per il rifacimento del tunnel sei mesi dal prima settimana di novembre perché le opere siano riconsegnate alla città ora la pagina dell'Aquila sul centro la cronaca giudiziaria in primo piano Marsica mazzette e appalti il Vaticano sta indagando sul faccendiere per l'accusa Ruggeri ha smascherato tangenti spendendo il nome di una fondazione romana che aiuta famiglie povere l'avvocato Mezzoni dice andiamoci cauti con le intercettazioni stiamo verificando gli atti per capire se ci sono delle responsabilità e poi l'interrogatorio di Venturini mai preso un euro gare lecite l'ex dirigente del CAM nega le accuse il sindaco D'Angelo di Casa Canditella dice ho avuto soldi ma solo per fare beneficenza la pagina dell'Aquila anche sul messaggero andiamo a vedere l'apertura patrimonio culturale e ambientale vediamo di recuperare la pagina eccola qui patrimonio culturale e ambientale ovviamente andiamo a vedere insieme se riusciamo a sbloccare il nostro touch screen eccolo qui benissimo allora ritorniamo alla lettura patrimonio culturale e ambientale nascono in città i primi interpreti innovativo master di secondo livello grazie a un consorzio con capo l'Università dell'Aquila servirà a formare professionalità nuove che stimoleranno il recupero della identità andiamo a vedere altre notizie nel taglio basso spacciatore a 16 anni arresto convalidato disposto dal giudice anche un percorso terapeutico in una struttura specializzata e poi il rugby forse si gioca ma resta il nodo dei debiti pregressi trovati fondi per pagare gli atleti della polisportiva lancia pronta a contribuire ma vogliamo certezze abbiamo la possibilità di vedere anche questo servizio sembrerebbero in via di risoluzione i vecchi rancori ma risolti tra la polisportiva all'Aquila Rugby e l'Aquila Rugby Club che non hanno permesso all'Aquila Rugby Club di scendere in campo al fattore domenica 1 ottobre nella prima giornata di campionato di Serie A contro Prato Sesto motivo del dissidio sarebbe stata l'incapacità dell'Aquila Rugby Club di onerare l'impegno economico di 25.000 euro preso con la polisportiva in cambio di 8 giocatori necessari per completare la rosa al momento va definendosi un accordo con la polisportiva che prevede l'impegno di 7 giocatori con il passaggio definitivo dei regbisti Cialente e Ponzi per 7.500 euro ciascuno e il trasferimento in prestito di Angelini Troiani Tinari Pupi Sansone e Cialia la rosa pertanto raggiungerà i 28 atleti che permetteranno all'Aquila Rugby Club di disputare il campionato a partire dalla seconda giornata l'Aquila Rugby Club si è impegnata ad erogare 30.000 euro entro la fine del campionato e mentre domenica si è sperato fino all'ultimo momento in un qualche positivo colpo di scena i giocatori e i tifosi si sono comunque incontrati davanti lo storico stadio Fattori per trovare insieme una soluzione che consenta alla squadra di far fronte a questa insidiosa crisi perché come hanno scritto gli atleti nella loro lettera aperta con cittadini aquilani l'Aquila Rugby è una squadra che hanno provato a dividere senza riuscirci unita da qualcosa di più di una semplice amicizia sul campo e i tifosi hanno risposto con un comitato cittadino Save l'Aquila Rugby l'appuntamento sarà il 3 ottobre martedì all'auditorium del Parco del Castello alle ore 19.30 per sostenere la squadra con una raccolta fondi intanto l'amministratore delegato Antonio Di Giandomenico ha presentato le sue dimissioni Di Giandomenico ha cercato di sostenere la squadra per quanto possibile visto che il rugby e i colori neroverdi sono per la città uno sport identitario i coach Troiani e Riotilio restano come tecnici al fianco dei giocatori che hanno affrontato lo scorso campionato con una determinazione e una grinta fuori dal comune incuranti delle enormi difficoltà ed è proprio su questi ragazzi che coach Riotilio pone attenzione atleti come Angelini Rettagliata Giorgio e Nicola Rossi Vaschi Cerasoli Bascia Barducci Ponzi Ciofani Fusco Carnicelli e Speranza che pur avendo ricevuto convenienti offerte da altre società hanno deciso di rimanere all'Aquila sostegno neroverdi anche dal mondo del calcio i rosso-blu aquilani hanno vinto con l'Agnonese 2 a 1 e mister Battistini è sceso in campo con la maglia del rugby neroverde dedicando proprio agli atleti aquilani la vittoria la pagina di Avezzano sul quotidiano il centro trovato senza vita mistero nei campi tragedia in via dei gerani l'uomo 62 anni di pescina era impiegato alla comunità montana possibile gesto estremo ma la dinamica non è chiara e poi la sorgente di canistro e lo stabilimento nord incontro con società regione e comune ancora racket case popolari arrestato un celanese 26 anni coinvolto in un'indagine a Roma scattata dopo un agguato a colpi di pistola altre 9 persone sono nei guai l'ini non è coinvolta inchiesta per truffa morgante struttura di canistro estranea andiamo a vedere la pagina di Teramo sul quotidiano il messaggero il titolo di apertura di pagina spaccio di droga ai ragazzini la polizia blinda le scuole controlli e misure di prevenzione nelle zone frequentate dagli studenti particolare attenzione a via le mazzini alla villa comunale e alla piazzetta del sole durante l'operazione sono stati allontanati tossicodipendenti e pregiudicati ispezionati anche degli esercizi pubblici andiamo a vedere la pagina della provincia un abbonamento per realizzare la tribuna originale iniziativa del Giuliano a basket per mettere a punto una struttura che manca da sempre al parasport dell'annunziata confermata anche la sponsorizzazione del mitolo di Mirco Marini che parla di soldi di soldi di valori e stima reciproca scendiamo dopo l'espulsione Viviani corre da solo notizia che arriva da Alba le comunali di primavera l'ex PD potrebbe aggregare altri nomi centrodestra diviso incognita di 5 stelle a Tortoreto nuovo depuratore via libera d'altare a Silvi falsa violenza sessuale condannato a 6 anni andiamo a vedere anche la pagina di Teramo sul quotidiano il centro Silvi ricatto a luci rosse condannato a 6 anni ieri imputato di estorsione e minaccia un imprenditore 170 kg di droga nel garage due gli arresti e poi sisma e scuole nuove carte nelle mani dei magistrati sulla città altre notizie dal Terramano allarme sicurezza l'ufficio dello spaccio alla pensilina dei bus scene di degrado e litigi tra tossici e pusher extracomunitari in pieno giorno in piazza Garibaldi scattati controlli delle forze dell'ordine poi la politica stasera prima riunione dell'ex maggioranza sul bilancio prima riunione in vista del voto sul documento finanziario previsto a metà novembre negato il diritto all'asilo a un bimbo disabile scrive sempre la città la certificazione del suo stato di salute arriva in ritardo rispetto alla chiusura della graduatoria e così resta fuori nel PD varata una corazzata anti minosse la politica il gruppo Red si allea con i Delfonziani a sostegno di Zunica ma l'accordo con i ginobliani non è ancora possibile per il rinnovo dei vertici del PD Terramano ancora la nomina del manager Asla attesa per giovedì al 90% la giunta regionale confermerà per altri due anni l'avvocato molisano Roberto Fagnano la popolare di Bari colloca bond da 600 milioni l'obbligazione segno raccolta con fiducia dal mercato il 74% delle adesioni è arrivato dai paesi europei andiamo ancora avanti in provincia portavano in Cina migliaia di euro non dichiarati due cinesi residenti Alba e Giulianova beccati dalla guardia di finanza alla dogana di Malpensa ancora lo spaccio in vibrata il poliziotto aveva 40 kg di droga a casa l'agente di Tortoreto in servizio nelle Marche è indagato per aver tenuto la marihuana degli spacciatori albanesi nella pagina di Giulianova Mosciano nuove polemiche sui lavori in via Sauro per quanto riguarda Giulianova e poi nella pagina di Roseto Pineto a 3 Silvi condannato a 6 anni per estorsione e minacce colombiano residente a Silvi la pagina dello sport andiamo sul quotidiano il centro la serie B e il Pescara in primo piano Koulibaly e Canuté in vetrina per il Delfino Muscoli e Fosforo per Zemani due diciotteni sugli scudi difesa solida grazie anche al muro senegalese in mediana Mamadou sta crescendo in fretta l'ex Juventus ha preso informazioni sull'ex Juventus ha preso informazioni l'Inter oggi la ripresa degli allenamenti Mancuso spera di tornare intanto c'è Latte Latte e poi Delfino ok Zeman non è cambiato l'allenatore pace salta il boemo non è superato il suo calcio ci farà divertire nel taglio basso da Meteora a Coverciano il riscatto di Brian Cristante non ha convinto il rivale Adriatico ora il centrocampista rivitalizzato all'Atalanta vola in nazionale l'apertura della pagina dello sport sul messaggero eccola qui per scara solido effetto bovo secondo il messaggero con il difensore centrale in campo dal primo minuto nelle ultime due gare zero gol subiti dai biancazzurri e pensare che il 34enne non rientrava più nei piani di Zeman domenica rientrano Latte Latti in attacco e Selasi a centrocampo con vocazione Under 19 Capone in Svezia salta il Cittadella nel taglio basso invece troviamo il basket Roseto da costruire debutto tra luci ed ombre torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere la serie C il diavolo anemico dopo il pari con la fermana c'è la sfida di giovedì al Bonolis contro la Feralpi e Salò venduti 100 abbonamenti in meno rispetto allo scorso anno Teramo il titolo l'attacco è ancora un punto interrogativo Barbuti dice dateci fiducia i numeri inchiodano il reparto offensivo ma la punta reintegrata ci crede il carattere e la determinazione ci sono i risultati arriveranno andiamo a vedere anche il titolo sul Teramo da parte del messaggero eccolo qui Teramo io e Foggia possiamo giocare assieme Barbuti analizza il pareggio con la fermana in vista del turno infrasettimanale Mister Asta prepara delle novità contro il Feralpi Salò Bacio Terracino e Varas sono in dubbio ciò che ci siamo completiamo la lettura di questa pagina del messaggero San Nicolò Campanile Bacchetta il gruppo dopo la sconfitta col Castelfidardo e poi il Francavilla Iervese ha pagato le ingenuità il mister contro squadre come il Campobasso bisogna essere cinici sempre per la Serie D i Nerostellati si sbloccano arriva il primo punto Mister Di Marzio dovrà però inventarsi nuove soluzioni Ancora Serie D riscatto Pineto nel segno di Bomber Gragnoli andiamo a vedere completare la lettura del quotidiano il centro per quanto riguarda la Serie D gli abruzzesi del girone F Steri e la crisi dell'Aquila meno parole più fatti il capitano rosso-blu siamo nel ben mezzo della tempesta ma non mogliamo ad Avezzano il presidente Paris conferma Gianpaolo Gragnoli salva Amavolo nel taglio basso la promozione Casalbordino domani recupero per salire al secondo posto in prima categoria il Lanciano macchina da guerra gol in campo e festa sugli spalti per il tennis Ciofani e La Valente vincono il torneo federale d'autunno chiudiamo andando a vedere la pagina dello sport sulla città il titolo ovviamente è per il Teramo la Feral Pisa l'Oper restare in media il pareggio contro la Fermana ha mosso la classifica del Teramo ma in casa non può bastare il punticino se poi in trasferta non arrivano dei colpi e noi ci fermiamo per quanto riguarda Mattino 6 io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi do appuntamento a domani alle ore 8 per l'Ara Segna Stampa oggi il TG invece alle 14 alle 19 e alle 23 vi auguro buona giornata e per l'Ara Segna Stampa Grazie a tutti.